stasera in compagnia di luca un bravissimo croupier parleremo e vi sveleremo tutti i segreti del tavolo da gioco non è vero non è vero parleremo di video mapping cosa sarà mapping mapping il mapping è una proiezione su delle facciate molta gente fa confusione tra video proiezione e animazione il mapping è la vera e propria animazione della facciata quindi un'illusione ottica a tutti gli effetti perciò vedremo questa sera un qualcosa che raramente si vede giusto esatto anche tridimensionale anche in 3d vedremo la nostra facciata le nostre spalle che questa sera prenderà completamente vita con tanti giochi di luci e tante tante non posso scoprire non posso svelare non possiamo svelare dovete rimanere qui ovviamente scenderà il buio e l'oscurità e noi ci goderemo questo fantastico mapping ci goderemo questo fantastico in cui ci goderemo ci goderemo ci goderemo Partire verso l'amore, rimane verso, verso il domani ancora incerto. Partire verso l'amore. E dopo aver scoperto tutto sul mondo della danza classica, no scusate il videomapping per TG Evans, Andrea Evans. Partire verso l'amore.